Quanto tempo fa nel mondo della lolcraft, ogni giorno, anzi una notte, Lolloso Mille nel suo villaggio dalla Pokéballo, dalla Pokéballo, ovvero, vabbè, voi sapete che Lolloso Mille è caduto, dallo spazio, no? Lo sapete vero? Non so che cosa sta succedendo, ragazzi. Ok, quando lui cadde dallo spazio, stava in una Pokéballo, e vide in lontananza un blocco di redstone. Sono andato a dormire, pensando che fosse solo perché aveva molto sonno, e quindi andò a dormire. Il giorno dopo stava ancora lì, quindi ha detto, può essere un sogno, devo pigliarmi i miei attrezzi segreti. Eccoti finalmente! Siamo stati in troppo... Miau, eccoti finalmente! Non ce la facevamo più a stare qui dentro. Ma che ci facevate voi due nel mio nascondiglio da supereroe? Miau! No, sul serio, che ci facevate? Eh, ci siamo entrati perché non sapevamo che fare. Ma chi è che sta roppendo quella testa? No, sono testa difficilissimi da trovare! Sono testa difficilissimi da trovare! Ah, dove l'ho messa, dove l'ho messa? Dove l'ho messa, dove l'ho messa? Dove l'ho messa, dove l'ho messa? Ringraziate che l'ho... Scusa, 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 scusami, scusa... Scusami... Scusa, comunque, io... Aspetta un attimo! Dove avete messo le mie armature da supereroe? Eh, tu hai delle armature da supereroe? Sì, eh... Ma perché non mi guardi? Guardi... Devi guard... Oh, Wolfy! Devi guardare a me, non quel... La testa di scheletro! Vabbè... Dovrò agire senza armature da supereroe, allora... Vabbè, comunque, se volete stare da... State pure là! No, aspetta! Miau! Allora... Dove... Ah, eccolo! Tanto c'è una mia pixel art a caso... Chissà chi l'avrà lasciata... Ma io se vado a vedere... Sembra... Un... Mega blocco di redstone... E... Ha degli occhi... Sì, c'è qualcosa di strano... Chi... 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 Chi ha parlato? C'è qualcuno qui? A parte quei villagerle che stanno dire solo... Ah... Ah... Loro di sicuro non possono averlo detto... Chi è stato? Io... Aspetta... Aspetta... Tu? Sì, io... Ah... Eh... Dai... Già ho troppe voci da doppiare... Ma pure a te ti devo... Ti devo doppiare... Vabbè, chissà... Vabbè, chissà... Vabbè, ormai... Eh... Vabbè... Comunque... Di che stavamo parlando? Ah... Niente... Niente... Eh... Vabbè... Che ci fai qui? Perché sei un mega blocco di redstone? E soprattutto... Perché sei proprio nel mio villaggio? Non vedi? Lì c'è una mia pixel art... Lì c'è la mia casa a forma di pokeball... Eh... Non dirmi che... Non dirmi che è quello che penso... Vieni dal mondo dei blocchi... Dei blocchi viventi? Sì... L'ho già... Gliel'ho già detto... Do a Pier Teschio che la deve smettere di inviare... Mi blocchi viventi... Oh... A proposito... Chissà gli altri dove saranno finiti... Intanto... E ragazzi, guardate... Finalmente lo abbiamo trovato... Già, è lui... Come abbiamo fatto a trovarlo? Già... Aspetta... Ma vicino a redstone... C'è davanti a lui... Vedo qualcuno... Che mi ricordo... Stranamente... Abbo... Andiamo... Più vicino... A controllare... Ehi... Guarda... Sono arrivati... Stavo parlando proprio di voi... Lapisazzuli... Oh scusa... Villager... Lapisazzuli... Goldi... C'è Redstone... Che è nuovo... Poi... Ferro e Diamante... Da quanto tempo non ci vediamo? Eh... Eh... Da molto tempo... Già... Non ci vediamo da molto... È vero... E siamo molto stanchi... Abbiamo viaggiato per molto molto tempo... Eh... Però non so se posso tenervi in casa mia... Perché... Cioè... Non perché non voglio... Perché non c'entrate più che altro... Siete un po' troppo... Grandi... Ma vabbè... Ci penserò... Vado una... Torno subito... Vado a chiedere... Che... Come voi sapete... Ho un cane... Un gatto... Parlanti... Anche... Quindi... Vado da loro a chiedere... Poi io lascio un creeper blu... Ah no... E lo scavo in Diamante... Che... Mi ha procurato... Diam... Diamoni... Allora... Vediamo... Cosa... Ne dicono loro due... Ragazzi... Che c'è? Miau! Eh... Volete venire? Almeno quando vi parlo? No... C'è... C'è... Devo venire io da voi allora, eh? Eh... Puoi anche parlarci da così... Ah... Beh... Allora... Vi ricordate quando c'avevo... Diamond... Iron... Lapis... Gold? Sì... Ce li ricordiamo... Miau... Ciao... Bow... Ehm... Sono tornati insieme a Redstone... Cosa? Veramente? Sì... Sì... Ma... Chi è Redstone? Quello che volevo sapere anch'io... Credevo che... Ma io... Mi stavo chiedendo di più... Che ci facevano loro? Io mi ricordo che c'erano tantissimo tempo fa... Ma non so come hanno fatto a tornare... Ah... Bow... Comunque... Volevano chiedere qualcosa? Sì... Volevano chiedere se li potevo li ospitare in casa mia... Eh... Beh... In casa proprio non ci entrano... Magari potremmo... Ma fargli una casa gigante solo per loro... Mmm... E' vero Wolfy... Come ho fatto a non pensarci io? Che... Che... Nel prossimo episodio della Locrap... Vedrete che... Cost... Non lo so mille costruirà... La casa per i blocchi... Dun 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 dun